Oggi inizia ufficialmente il festeggiamento per il cinquantesimo anniversario dell'associazione CNA Biella, nata appunto nel 1969. Ad oggi abbiamo fatto tantissime attività, cercheremo di renderle e ricordarle in tutto quest'anno. Abbiamo pensato e realizzato un logo che identifica la nostra storia, un logo rappresentato da una linea continua che parte idealmente appunto dal 1969, va a formare il numero 50 e si ferma per poter dare ancora prosecuzione al futuro. Dal logo si evince la connessione con la storia ma anche la connessione al cambiamento, al cambiamento che noi continuiamo a immaginare come uno slancio al futuro. Questo cambiamento l'abbiamo anche voluto realizzare attraverso la metodologia di cambiare il paradigma del festeggiamento, ossia non più un evento singolo a celebrazione, bensì un anno intero di eventi, sono 19 ad oggi pianificati, che vedranno l'associazione impegnata nelle proprie attività normali già che si sono caratterizzate in tutto l'anno e proseguiranno con alcuni eventi ad hoc realizzati proprio per il cinquantesimo. Vi cito sinceramente il clou di questo festeggiamento che sarà la presentazione di un'opera commissionata all'artista Daniele Basso e sarà donata al territorio, questo ancora per rafforzare il legame tra la nostra associazione e il territorio. Abbiamo pensato di festeggiare in modo particolare anche con i nostri associati. L'abbiamo fatto realizzando uno spazio a loro dedicato affinché si possano mettere in evidenza sulle nostre piattaforme social e web. È uno spazio che noi mettiamo a disposizione esclusivo per loro, di cui loro potranno usufruirne per tutto il 2019, in modo che anche tutti i nostri associati riescano a vivere al meglio possibile questo anno per noi molto importante. Grazie per la visione!